Vorrei prima di tutto fare una considerazione di metodo che sarà sicuramente approfondita dalla senatrice De Petris. La nostra battaglia è non solo per difendere questa Costituzione, i suoi equilibri, i suoi assetti di fondo, ma per difendere il senso e il ruolo stesso di una Costituzione. Perché nel momento in cui la Costituzione diventa cosa del governo e la riforma, cosiddetta riforma costituzionale, diventa la battaglia politica fondamentale, quella su cui si minacciano le dimissioni del governo e la fine della carriera politica del Presidente del Consiglio, è chiaro che la Costituzione viene dichiarata a una qualsiasi legge politica, è comuna a qualsiasi legge politica e si crea, non è la prima volta purtroppo, un nuovo precedente, diciamo così, che potrà poi essere utilizzato da un futuro governo diverso da questo, che potrà farsi la riforma costituzionale a suo uso e consumo. Ciò detto, ci sono fortissime ragioni di merito che giustificano il no, il no secco a queste due leggi. È una legge costituzionale, l'ha spiegato bene Gaetano Azzariti, brutta, sgrammaticata, poco comprensibile, eterogenea, riguarda, va a modificare articoli collocati in 5 dei 6 titoli della seconda parte della Costituzione, ma insieme all'Italicum la nuova legge elettorale diventa assolutamente pericolosa e non si dica che l'Italicum, siccome è una legge ordinaria, non deve essere preso in considerazione, l'hanno approvato un anno prima della legge costituzionale e l'hanno approvato per la sola Camera dei Deputati e quindi nella previsione che il Senato non sarebbe stato più elettivo, questa è la verità e quindi se vincessero i no avremmo comunque due Camere elettive con sistemi elettorali diversi e io trovo scandaloso che i sostenitori del sì addebitino questo esito negativo ai sostenitori del no. Sono loro che sono stati degli avventuristi nel momento in cui hanno approvato una legge elettorale prima della legge costituzionale che riguarda non entrambe le Camere ma solo la Camera dei Deputati. Ma entriamo nel merito di questa legge elettorale. Il premio di maggioranza è abnorme, è assolutamente abnorme perché premia una minoranza. Ora io ho ritrovato una dichiarazione di Gasperi del 17 gennaio 1953 alla Camera dei Deputati dove cercava di giustificare la famosa legge truffa che assegnava come sapete il 65% dei seggi alle liste apparentate che raggiungessero il 50% più 1 dei voti dicendo testualmente noi non vogliamo trasformare una minoranza in maggioranza. Se facessimo questo sarebbe un tradimento della democrazia. Ora io penso che quello che era un tradimento della democrazia nel 1953 lo è anche nel 2016. E c'è, è vero, quel sbarramento teorico del 40% al primo turno che si sa bene che nessuno lo raggiungerà. Ma poi c'è il ballottaggio tra liste ballate, non tra candidati come quando si allegge il sindaco, ma tra liste. E questo è un contesto politico che ormai è quantomeno stabilmente tripolare e quindi già antidemocratico di per sé. E la seconda lista, la prima lista che abbia un voto in più della seconda, avrà almeno il 54% dei seggi. Almeno, perché poi ci sono i seggi della circoscrizione estera, quindi prenderà qualche seggio anche lì e quindi avrà il 55% dei seggi con ogni probabilità. E il voto dell'elettore che ha votato per la seconda lista, non per l'ultima, conterà circa un quarto di meno di quello che conta il voto dell'elettore che ha votato per la prima lista. Quindi un premio di maggioranza assolutamente abnorme, un ballottaggio fasullo che serve ad aggirare quella soia che è stata prevista al primo turno. E in questo modo si dà vita ad una Camera di Deputati, che è appunto la maggioranza monopartitica artificiale, con un leader che sarà sostanzialmente plebiscitato dal popolo. Che sia così, ce lo dice lo stesso Presidente del Consiglio, quando nell'intervista che ha fatto giorni fa con Scalfari su Repubblica, dice che sono pronta a fare una legge che ponga al limite dei due mandati per il Presidente del Consiglio. Il limite dei due mandati esiste soltanto per le cariche elettive, non esiste per una carica di un Presidente del Consiglio che dovrebbe derivare dalla fiducia del Parlamento e essere sfiduciato dal Parlamento quando il Parlamento lo ritiene opportuno. E quindi lui già si sente eletto, già si sente comunque eletto dal popolo in virtù del risultato delle elezioni europee. Figuriamoci con questa legge costituzionale e con la legge elettorale. Lui sarebbe l'elettore del popolo e allora ha senso che ponga il limite dei due mandati. Questa è la verità, questo è lo stravolgimento che verrebbe prodotto. In più ci sono i capolisti bloccati e qui si è calcolato che circa i tre quinte e i due terzi dei deputati sarebbero nominati dall'altro in realtà e ogni capolista bloccato si può candidare in dieci diversi collegi. Quindi sceglie anche lui alla fine qual è il primo dei non eletti che deve essere fatto fuori. Sarà chiaramente quello più sgradito al leader del partito, quello più estraneo e più lontano. Insomma avremmo una maggioranza monopartitica alla Camera con un leader plebiscitato che prenderebbe le decisioni fondamentali su cosa? Su la politica estera, la politica economica, la giustizia, l'attuazione dei diritti, la deliberazione dello Stato di guerra che non sarebbe più affidato a entrambe le Camere ma sarebbe affidata soltanto alla Camera dei Deputati. In più si approprierebbe degli organi di garanzia sostanzialmente, almeno in parte. Qui c'è una considerazione da fare, in parte l'ha già fatta Zaliti. È veramente singolare che si riduca il numero dei senatori a 100 e il numero dei deputati rimanga di 630. Quindi non è una questione di risparmio, è una questione di equilibri. È chiaro che in questo modo si squilibra tutto. Io credo che l'unica ragione, l'unico motivo che può giustificare questo mantenimento di 630 senatori è che i contraenti del patto del Nazareno evidentemente avevano bisogno di un numero comunque consistente di seggi da poter sventolare e promettere ai loro sostenitori. È evidente, non ci può essere altra ragione. In questo modo però si squilibra il Parlamento in seduta comune, che non è più formato da oltre mille persone, deputati, senatori, delegati delle regioni, ma da 730. E il peso specifico della maggioranza monopartitica artificiale diventa decisivo, molto più forte, questo è un fatto matematico, a cominciare dall'elezione del Presidente della Repubblica. Si dice che abbiamo aumentato dopo il terzo scrutinio i tre quinti dei componenti, ma dal settimo in poi ai tre quinti dei votanti. Ora i votanti non sono un numero fisso, i votanti possono variare, basta che ci siano 25, 30 parlamentari compiacenti verso la maggioranza e figura di se non si troveranno in Italia con un partito di maggioranza che deciderà tutto e farà il bello e il cattivo tempo, perché la maggioranza è l'unico partito che si appropria del Presidente della Repubblica e così degli 8 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, quanto poi ai giudici costituzionali, c'è questa cosa orribile per cui tre sono eletti dalla Camera, quindi anche il partito di maggioranza ci metterà le mani e due rappresentano il Senato, cioè le istituzioni territoriali, che è una cosa che fa semplicemente rabbrividire, perché i giudici costituzionali non devono rappresentare né le regioni né lo Stato centrale, rappresentano la Costituzione, devono far valere puramente e semplicemente il rispetto della Costituzione. A fronte di tutto ciò c'è un senaticchio, così è stato definito, formato quasi esclusivamente da consiglieri regionali e da sindaci, i quali acquisiscono l'immunità penale e qui ho molti dubbi, perché una cosa è l'insindacabilità, che è totalmente giusta, non possono essere perseguiti per l'opinione espresse come senatori, ma che ci azzecca l'immunità dagli arresti e dalle misure limitative della libertà personale, per cui un consigliere regionale senatore potrà essere arrestato, soggettato a misure limitative della libertà personale, solo se gli altri suoi colleghi senatori e consiglieri regionali sono d'accordo, cioè concedono l'autorizzazione, mentre gli altri consiglieri regionali che non fanno i senatori no, possono essere arrestati e possono essere soggetti a quelle misure, questi senatori saranno eletti dal popolo, è vero che è stata introdotta con la formula ambigua, inconformità alle scelte del corpo, che non vuol dire assolutamente nulla, ora io dico sempre, ci sono 8 regioni e le due province autonome che eleggono due senatori, un consigliere e un sindaco, con metodo proporzionale ci dice la legge così, fa quasi ridere, che vuol dire metodo proporzionale? Assolutamente nulla, quindi saranno scelte, saranno spartiti o se ne approprierà la maggioranza laddove è in grado di farlo, io credo che sia più probabile che ci sia una spartizione in realtà. Quanto alle competenze di questo Senato, c'è allo stesso tempo un eccesso e un difetto, un eccesso nel momento in cui un Senato, che non è espressione della sovranità popolare, approva addirittura le leggi costituzionali, voi pensate, i sindaci e le leggi che ratificano i trattati di adesione all'Unione Europea e altre leggi molto importanti, questo è sicuramente un eccesso. E c'è poi un difetto, non rientrano fra le leggi bicamerali proprio quelle che interessano massimamente le regioni, e cioè quelle che devono stabilire le disposizioni generali e comuni relative all'istruzione, alla tutela della salute, all'ambiente e al governo del territorio. E qui è giustissimo quello che dice Azzariti, le regioni sono trasformate di fatto in enti amministrativi e nel momento in cui tu fai questa operazione, che senso ha fare il Senato delle regioni? È come dire, un contentino che viene dato, una contropartita che però corre il rischio di essere priva di senso e di nerbo, nel senso che questo Senato o conterà poco o metterà i bastoni in mezzo alle ruote, perché ha la possibilità di chiedere modifiche su qualsiasi legge, lo può fare in modi, in forme diverse, con maggioranza diversa, solta la Camera a seconda delle materie, può reagire con maggioranza diverse, secondo tempi diversi, abbiamo appunto almeno sette procedimenti legislativi, forse sono anche più di sette e quindi un'enorme complicazione con una conflittualità che sarà quasi inevitabile. Ma c'è di più, ci sono, ho già parlato degli organi di garanzia, ma uno dei problemi fondamentali, uno dei due problemi fondamentali che abbiamo, uno è la rappresentanza, che è stata, come dire, indebolita e ridotta quasi a zero. L'altro è la partecipazione, perché dovremmo preoccuparci del fatto che milioni di cittadini si distaccano dalle istituzioni e dalla politica, decine di milioni di cittadini. Bene, si sventolano i nuovi istituti di partecipazione, qui c'è una colossale presa in giro, le leggi di iniziativa popolare, le firme sono portate da 50 a 150 mila, si dice che devono essere esaminate e deliberate, quando, come, perché, secondo quanto stabiliranno i regolamenti parlamentari e quindi la maggioranza monopartigica della Camera, si introduce il referendum propositivo, ottima cosa, noi abbiamo solo quello abrogativo, una quota consistente di colpe elettorali potrebbe proporne qualcosa, anche qui, con quali effetti, con quali presupposti, entro quale termine il Parlamento deve deliberare, è rinviato a una legge costituzionale futuro e poi a una legge ordinaria di attuazione della legge costituzionale, campacavallo, poi c'è quella cosa veramente ignobile del doppio quorum per il referendum abrogativo, con 500 mila firme rimane la metà più uno di aventi diritto al voto e sappiamo benissimo quanto è facile ormai invalidare il referendum invitandolo ad andare a votare, come non dovrebbero fare i titolari di cariche pubbliche così importanti come il Presidente del Consiglio e anche il Presidente di merito della Corte Costituzionale, se permettete, io trovo che sia una vergogna che titolari di cariche di questo tipo invitino gli elettori a non partecipare al voto. Ci vogliono 800 mila firme perché sia ridotto il quorum, quindi praticamente ti costringono a raggiungere, a prendere 800 mila firme, sappiamo quanto è difficile prendere le firme, anche perché ci sono una serie di pastoglie burocratiche, ma vorrei dire di più, nel momento in cui un referendum viene dichiarato legittimo e ammissibile e va al voto popolare, non è più uno strumento o una proprietà dei promotori, diventa un momento di espressione della sovranità popolare e in quel momento non ci possono essere due quorum, il quorum può essere uno solo perché se no è un'offesa che si fa alla sovranità popolare. Quanto ai rapporti Stato-Regioni ho già detto e qui veramente si va all'estremo opposto, nel 2001 si rincorreva la Lega e si parlava di federalismo, eravamo quasi tutti federalisti, adesso si ritorna a una centralizzazione, le materie di competenze esclusive dello Stato andavano rimpolpate, forse sì, ma passano da 32 a 48, vengono abolite nei materi di competenza concorrente tra Stato e Regioni, che non erano quelle responsabili della conflittualità che si è creata tra Stato e Regioni, viene introdotta la clausola di supremazia e lo Stato può intervenire, il Parlamento su richiesta del governo quando una legge regionale mette in pericolo l'unità giuridica e economica dello Stato, ma anche l'interesse nazionale, ora il concetto di interesse nazionale, chi si occupa di queste cose lo sa benissimo, è stato storicamente utilizzato per colpire Regioni che non erano politicamente amiche, questa è la verità, perché è un concetto sfuggente, generico e è un concetto sostanzialmente politico, dopodiché c'è la perla finale, una norma transitoria, la quale dice che tutto questo non si applica alle Regioni a statuto speciale, finché non saranno modificati i loro statuti con legge costituzionale, io la dico così con una battuta, la Regione Sicilia, ma potrebbe essere anche il Friuli, può fare una legge che metta in pericolo l'unità giuridica e economica dell'Italia, del Paese e il Parlamento nazionale non può intervenire perché neppure la clausola di supremazia si applica alle Regioni a statuto speciale. E quindi arrivo alla conclusione, la conclusione è che questa legge, questo insieme combinato delle due leggi, intanto cambia la forma di governo, perché andremo a un iperpresidenzialismo senza contropoteri, perché iper? Perché non avrebbe i contropoteri del presidenzialismo non americano, sarebbe privo in realtà, sarebbero sfibrati, indeboliti contro poteri, i poteri presenti al pubblico, voi pensate, la nomina è obbligata, lo scioglimento, quando mai? Lo decide il primo ministro quando andare al voto, lo impone al presidente, si dimette, il presidente che può formare un altro governo non può far altro che sciogliere la Camera dei Deputati. E quindi verticalizzazione e centralizzazione del potere, squilibrio fra i poteri, quindi quando si dice non si incide sulla prima parte, perché si vuole dire che non incide sui principi, a voglia si incide, tra l'altro vorrei sottolineare che il principio della separazione dei poteri sta nella seconda parte della Costituzione, come altri principi fondamentali come l'indipendenza della magistratura e la rigidità superiorità della Costituzione, quindi anche questa tagliare la Costituzione a fette come se fosse un salame è una cosa totalmente inaccettabile. Infine, ultima osservazione, sono due gli argomenti ricorrenti, uno è quello del risparmio, no? E qui ha già detto bene Alzariti, si parla alla pancia della gente, si inventano le cifre, il ministro Boschi si è esibito in una dichiarazione in Parlamento proprio, fornendo le cifre assolutamente false, 500 milioni di risparmio, qui ci sono i dati della ragioneria dello Stato che dicono che il risparmio sarebbe intorno ai 57 milioni, lei l'ha moltiplicata per 10, in più quelli che deriveranno dal fatto che l'economia andrà meglio e crescerà il PIL, figurateli, qui si può dire qualsiasi cosa, si può parlare a ruota libera, cosa che un ministro della Repubblica chiaramente non dovrebbe fare, ma il secondo argomento che viene addotto, su questo ci ha detto molto bene Gaetano, quindi non aggiungo nulla, noi innoviamo e gli altri sono i conservatori. Il conservatore per vocabolario italiano è chi vuole mantenere o peggiorare addirittura lo Stato di cose esistenti e questi vogliono fare esattamente ciò e cioè sancire nel testo della Costituzione uno Stato di cose che è basato su un forte squilibrio fra i poteri, su un Parlamento che non conta più nulla, su un governo che decide quello che vuole e che sia sostanzialmente appropriato la funzione legislativa, su una partecipazione che è sempre più asfittica e ridotta e anzi viene quasi comodo il fatto che la gente non vada a votare, ricordate il commento di Renzi quando ci furono le elezioni in Emilia Romagna, il 37% di votanti, comunque abbiamo vinto, non è così importante che siano andati in pochi a votare, questo è quanto. E allora dire no significa non solo salvare la democrazia costituzionale in questo Paese, ma è il presupposto indispensabile per cambiare veramente, per avere una legge elettorale che sia conforme alla Costituzione, per avere anche, perché noi non arretriamo di fronte a questo, modifiche della Costituzione che siano però puntuali, ragionate e soprattutto condivise.